Juve da sogno, Juve al max, che bella signora, una signora rivincita. Ebbene, stamattina tutti i giornalacci aprono con farle lodi alla Juventus per questa vittoria ieri 3-0 in casa dell'Udinese. Si soffermano sulla sconfitta clamorosa della Lazio dopo essere passata in vantaggio, una 0 contro il Lecce, per 2-1 poi viene rimontata in meno di due minuti, 85-87, si ribalta una situazione veramente incredibile. Una Roma fermata in casa 2-2 dalla Salernitana dopo che era passata addirittura in svantaggio 2-1 con una doppietta di Candreva e ritorna il Gallo Belotti che risponde con un'altra doppietta, tra l'altro anche con un gol annullato. Una domenica sicuramente scoppiettante da questo punto di vista, con queste due sorprese soprattutto delle romane che fanno capire che non è così facile l'inizio per le squadre che sono candidate a dei posti alti. Ma al di là di questo, al di là di tutto ciò che poi viene anche sviolinato come succede sulla gazzetta interista dello sport, che ovviamente la sua frecciatina la deve dare in questo senso. Adesso Leao tocca a te, vediamo cosa commini stasera e subito di lato De Ketelar fa il diavolo, guardando nella direzione del Milan come in maniera un po' così, giusto per animare quegli animi di quei fanta tifosi, perché pseudo gli dà fastidio, i fanta tifosi, come i fanta allenatori. Adesso vediamo se io comincio a parlare in questo modo, vediamo se diventa un trend questa parola anche nei social, perché quando ho iniziato io con i pseudo tifosi e il carro famoso, poi chissà come mai, casualmente hanno cominciato tutti a parlare di pseudo tifosi, pseudo milanisti, pseudo di qua, adesso comincerò a lanciare un altro trend e vediamo se, perché fino adesso non dice nessuno, i fanta tifosi, cioè coloro che vivono nella fantasia, vivono in mondi paralleli e queste cose qua. Vediamo questi, i fanta milanisti, ecco quelli che giocano al fanta calcio, che tutti si sentono dei grandi allenatori e sperano di vincere qualcosa con i vari tornei che offrono anche questi giornali, piuttosto che tra amici, i fanta tifosi, vediamo che cosa fanno questi fanta milanisti o fanta tifosi, che tra l'altro da voci diverse che mi sono arrivate vogliono far la guerra a noi, a me e alle lo stroppa del canale gemello dell'urlo milanista, perché? Perché a differenza di altri che vivono nell'anarchia, vivono nell'assoluta veramente non consapevolezza, per dirlo in una maniera un po' più letteraria e filosofica, praticamente vedendo in noi delle persone determinate, a parte la gelosia e l'invidia, che ovviamente non la riconosceranno mai, perché essendo esseri di un basso livello culturale, di essere di un basso livello morale anche, da dove noi diamo dell'ordine, diamo delle regole chiare anche per fare il tifoso, perché per essere tifosi come quando tu vai in un'azienda, come tu quando lavori e poi magari ci danno anche degli aziendalisti, capito? Noi che abbiamo vissuto la serie B, noi che abbiamo vissuto il fallimento di farina, noi ovviamente siamo gli aziendalisti, non, caso mai, loro che sono dei pagliacci che salgono e scendono dalle opere circensi, no? E quindi questi pseudo-tifosi che ormai ribattezzerò, questi fanta-youtuber o fanta-tifosi, chiamiamoli, perché come Fantamen, lo ricordate il cartone animato Fantamen? Questi sono coloro che quando il Milan vince sono là ballando, spogliandosi e tutto quando perde, li vedi con quelle facce incazzate contro l'allenatore, contro la società, contro questo e quest'altro, perché vivono di impulsi come gli animali, come le bestie, e non hanno fatto quel grado di evoluzione che si richiede ovviamente a un cervello pensante che in teoria dovrebbe essere più in là dell'uomo sapiens, ossia l'uomo. So che per molti di voi questa sembra letteratura, qualcosa di fantascientifico, ma è la realtà dei fatti. E soprattutto sono contento che dopo che ho fatto questi video in questi giorni su Carletto Mazzone, che per me è stato davvero un mito, un uomo che al di là dei colori ho amato profondamente proprio per la sua genuinità, se ne siano andate delle persone dal canale. Dopo che abbiamo fatto il va de mecum, uguale se ne siano andate persone dal canale. Questo si dice far cadere i rami secchi, cioè persone che non hanno valore, perché le persone che hanno valore sanno quello che c'è nella tribù rossonera, sanno quello che può apportare il vostro marietto e quindi restano, anzi fanno sì che entrino persone per poter seguire questa linea da veri milanisti, da veri tifosi. Cosa che non si può dire purtroppo per altri canali, escluso ovviamente il nostro canale gemello dell'urlo milanista. Ma al di là di tutte queste notizie che comunque voglio ricordare le parole di un grande, di Pep Guardiola, proprio del suo allenatore Mazzone, tra l'altro lui aveva anche una maglietta proprio con quella famosa scena della corsa sotto la curva dell'Atalanta. Dice un giorno triste per me e per la mia famiglia, mister Mazzone è stato il mio allenatore al Brescia, scomparso ieri, dice oggi, il mio pensiero va alla moglie, figli e nipoti in Italia è stato un secondo padre per me. Ci ha lasciato una leggenda del calcio italiano per l'impatto che ha avuto e in chi l'ha conosciuto, giocatori, presidenti, allenatori, in tutti nel calcio. Degli amici mi hanno mandato questa maglietta un anno fa e oggi ho deciso di indossarla, che era quella maglietta famosa che vi dicevo con la faccia con Mazzone correndo sotto la curva dell'Atalanta. Ricordiamoci che il signor Guardiola lo aveva invitato alla finale di Roma, Barcellona, Manchester United. Questi sono uomini veri, queste sono persone vere, persone che nel calcio, Pep Guardiola così come Roberto Baggio, sono state allenate da questo grande uomo che è Mazzone e non si dimenticano, perché i veri uomini non si dimenticano, in questo canale ci sono solo veri uomini e vere donne, persone di cuore. Tutto il resto se ne va, perché sanno che questa vibrazione è troppo alta a livello di cuore e quindi prendono e se ne scappano nei canaletti, che sono i canaletti come quelli che seguono ancora i giornali, le tv, io sono dieci anni che non vedo la tele perché quella fuffa che secondo me dovrebbe prendere fuoco in tutte le case, se vi volete fare un regalo per il prossimo Natale prendete le tele e gettatele al balcone. Tanto non servono a niente, per quello che dicono, a parte creare allarmismi, soprattutto per le persone che non hanno cervello non hanno cuore. E dunque c'è anche Adani che va all'attacco di Pioli, Padre Tempo addirittura lo ha soprannominato, commentando proprio il gol di Charles de Quetelar dell'Atalanta, dice stavo pensando che c'è un ragazzo che gioca nell'Atalanta, Mancino trequartista, che non è male. Padre Tempo opera in silenzio, attaccando Pioli. Beh, io penso che c'è poco da dire su Pioli, io penso solamente che Charles de Quetelar è un giocatore non da Milan, non da grande squadra, lo ha provato in tutte le posizioni davanti, sulla trequarti, falso 9 alla destra e non ha personalità per stare davanti a un pubblico di 80.000 persone. La sua dimensione è quella di Bergamo, a cui io gli faccio tutti i migliori auguri, davvero di cuore. I colori sono stile quelli del Bruges, lo stadio è stile quello del Bruges, una dimensione media, normale, che è quella di un giocatore che può giocare in quel tipo di squadra, ma con tutto rispetto per l'Atalanta, tutto rispetto del Bruges, ma giocare nel Milan è un'altra cosa. E dunque, proprio per arrivare al nostro Milan, c'è una notizia davvero clamorosa, che è uscita fuori ieri notte da una specie di bomba di mercato, che è quella proprio di uno scambio eventuale tra il Milan e la Juventus, ebbene sì, tra Moise Keen e udite-udite Alexis Selemekers. Praticamente cosa è successo? C'è una convergenza da parte delle due società che hanno portato a questo cambio di rotta repentino ed è reso noto appunto da Sport Mediaset nel consueto loro appuntamento che va in onda sui loro canalacci, come ci sono i giornalacci, ci sono i canalacci che sono quelli della televisione, quindi non è che devo fare tanta pubblicità adesso, quale canale? Il notiziario cosa riferisce? Di un'ipotesi innanzitutto, quindi voi sappiamo che tutte le cose che arrivano dal mainstream, dai giornali, tv e tutto quanto, prendetelo con le pinze, perché 9 su 10 sono cazzate, quindi loro devono cercare di fare lo scoop, far sì che le persone si aggancino a queste cose, poi tra l'altro questi fanta youtuber, cioè giocano sul fatto che dice tu non sei un vero tifoso perché tu ti approfitti del Milan perché chiedi donazioni, chiedi abbonamenti e destra-sinistra, bene, perché cosa fanno quelli della Curva Sud vendendo materiale loro che si rifà il Milan? tu che anche in privato mi dici che se fosse stato uno della Curva Sud a dire delle cose, a parte io sono stato più di 10 anni quando tu ancora bevevi il latte, io ero in Curva Sud dove c'erano le vecchie Brigate Rossonere e Fossa dei Leoni, quindi se tu non sai non parlare prima di tutto, quindi è lì che c'è lo spirito del vero tifoso, quando perdi in casa 5-2 col Sassuolo, quando perdi 4-0 con la Lazio sei in i 90 minuti ancora a sostenere e cantare per la squadra, quello vuol dire tifare il Milan, che sia chiaro, no no perché poi chi deve arrivare arrivano queste cose, non c'è bisogno di fare nomi perché non c'è bisogno di fare pubblicità a chi scredita noi veri milanisti, e dunque questo piano B, questo piano B che potrebbe essere questo scambio clamoroso tra Selemekers e Moise Kinn, Kinn ieri non ha giocato, ci sono questi sospetti del fatto che appunto non avendo giocato molti dicono per questioni fisiche, altre per questioni disciplinari, non si sa quello che realmente sia dietro perché noi non possiamo saperlo, non abbiamo i microchip come la Gazzetta Corriere dello Sport o tutto sport che loro sanno, quello che succede dentro l'ispogliato OI, quello che succede, giusto? Quello che succede nelle sedi perché loro sanno tutto, poi durante l'estate fa niente se ogni giorno ti dicono che è morata un giorno al Milan, dopo tre giorni no voglio la Roma, tre giorni ancora c'è la chiamata con l'Inter, passano quattro giorni va alla Juve quando io un mese prima vi dicevo dalla, visto che probabilmente vivendo in Spagna parlando ottolingue, magari ne so un po' più anche di questi fenomeni giornalistici o coloro che vogliono vendere fuffa, dicevo a Radio Coppe c'era stata l'intervista del presidente dell'Atletico Madrid che avrebbe detto 99% in Italia non andrà perché gli era fatta quella domanda, che giorno siamo? 21 agosto? Morata in Italia? No. Quindi continuate a seguire questi personaggi, continuate a seguire questi fanta youtuber da quattro soldi che spaccano piatti, che spaccano magazzini, che si incazzano, che imbeiscono e compagnia bella, quelli lì sì che sono persone intelligenti, seguite loro perché questo è un canale che non fa per voi, se voi avete quella testa e non è un canale per voi, questo è un canale per persone pensanti, per gente intelligente, gente che ha un cuore, che ha passione e quindi è tutt'altro rispetto a quel tipo di tifo. E dunque nonostante qua l'ironia fa parte della casa, adesso non è che io tutti i giorni mi posso mettere a fare il pagliaccino pagliaccetto, anche perché poi stufa e quindi visto che io non mi devo mettere qua a fare il circo, il circo lo faccio quando c'è il momento per farlo, c'è il momento per ridere e il momento per ragionare, quindi che sia chiaro anche questa cosa. Dunque il piano B, perché la Juve sta puntando su Domenico Berardi, sembra che questo, visto che ieri anche era tra gli esclusi, mi sembra del Sassuolo, se non bado errato, io non ho visto poi Sassuolo-Atalanta, Armando Brogia sarebbe l'attaccante che il Milan sta cercando, per quanto dopo un anno di stare fuori, anche per infortuni, la vedo una cosa un po' un azzardo. E dunque in questa situazione, se questi piani non andassero in porto, tanto di Mimuccio Berardi da una parte che di Brogia dall'altra, anche se è uscito fuori il nome di Echitiche, perché l'attaccante del Bayer Leverkusen sembra che sia vicino al PSG, questo potrebbe liberare lo slot dell'attaccante, quindi ci sarebbe un movimento di attaccante, Echitiche potrebbe diventare un eventuale papabile, per quanto secondo me ci sono squadre che potrebbero mettere sul piatto subito dei soldi, cosa che il Milan non farebbe. La vedo un'ipotesi molto lontana, quella di Moise Keane sembra un'ipotesi reale, poi ci sono sempre queste voci che non hanno riscontro nei giornalisti seri come Schira, come Romano, come Longo, di questo fantomatico, non innobinabile ex Inter, ex Chelsea che noi tutti conosciamo, Big Rom. E dunque questa soluzione, questo piano B, se le Makers e Keane potrebbe essere davvero un qualcosa che potrebbe andare in porto, anche perché se le Makers sembra ormai fuori dal progetto proprio Milan, fa parte di quel gruppo di esuberi che non si sta neanche allenando con la Rosa, Moise Keane, ripeto, ieri non ha giocato, non si sa quale sia la vera ragione, se è questione fisica o questioni disciplinari, o perché c'è in ballo realmente un trasferimento. Ovviamente questa sarà una settimana calda, nel vero senso della parola, perché è anche quello che sta neanche, veramente fa caldo pure, proprio settimana calda in tutti i sensi, e non sensi dell'Inter, perché ho visto anche uno striscione l'altro giorno, cioè noi ci teniamo sensi, ma quello è il livello ovviamente anche di quell'altra squadra che comunque ha iniziato col piede giusto, come il Napoli, quindi ben per loro, la Juve è anche iniziato bene, Lazio già primo KO, Roma già con l'acceleratore che ha dei problemi, quindi già va un po' in panne, però ripeto, è la prima giornata, non possiamo fare dei giudizi, almeno l'ho già detto, cominceremo a dare delle prime impressioni dopo 6-7 giornate di campionato, non possiamo farla la prima giornata, anche perché mancano 10 giorni di mercato, tante situazioni ancora devono mettersi al loro posto, quindi è presto per giudicare, allo stesso tempo già vi sto avvisando, non per mettere le mani davanti, non aspettiamoci un Milan spettacolare subito, nonostante questa super campagna acquisti, ricordando che addirittura stasera Marco Pellegrino già dovrebbe essere allinate, domani farà le visite mediche alla Madolina consuetudinarie, in serata ci dovrebbe essere la firma del contratto, tutto l'iter della presentazione, quindi non acquisto per il Milan, nell'attesa di altri due acquisti molto probabilmente che saranno un attaccante e se non va via Balloturè un terzino sinistro. Dunque la squadra c'è, il Milan c'è e speriamo che pure ci sia stasera un risultato importante per cominciare la stagione anche con un po' di entusiasmo, perché altrimenti già mi immagino poi i detrattori, fanta tifosi, fanta milanisti, fanta youtuber, già come cominceranno a spaccare la spelotas prima del tempo, però noi ormai abbiamo fatto un bello scudo, uno scudo di milanismo vero, io e Ale lo stroppa dell'urlo milanista, noi della grande community della tribù insieme a quella dell'urlo ormai abbiamo una linea molto chiara, ben delineata, come avete visto il nostro Bade Mecum va a Messa, lo trovate in descrizione, in tutti i nostri video lo trovate e allo stesso modo anche il palinsesto, noi abbiamo presentato già ieri sera il palinsesto della settimana, se fate parte dei nostri gruppi facebook, se entrate nei gruppi telegram, tutto in basso in descrizione, gruppi aperti, potete trovare anche questo palinsesto lì dappertutto, quindi sapete ogni giorno quello che ci sarà, per esempio stasera post partita Bologna-Milan, 23.15, saremo sull'urlo milanista nel canale Gemello, con il nostro carissimo Ale lo stroppa, e voi ovviamente, mi sembra il minimo. Detto questo ringrazio tutti coloro che decidono davvero di seguire questa linea, iscrivendosi al canale, mettendo tanti like, mi raccomando, e allo stesso tempo il ringraziamento speciale va a coloro che si stanno abbonando da soli 0,99 al mese in poi per sostenere questa grande le tribù, questa grande community, perché ragazzi per noi è un lavoro, a differenza di quei quattro fantocci che fanno 3-4 video a settimana, noi facciamo non solo video tutti i giorni, ma anche live tutti i giorni, quindi noi dedichiamo una media di quasi 10-12 ore al giorno, più i nostri gruppi di whatsapp, di telegram, facebook, instagram, quindi se non è un lavoro questo e non viene riconosciuto probabilmente come dare perle in bocche ai porci, e purtroppo nel calcio di porci ce ne sono tanti. Un bacio alle amiche, un forte abbraccio a tutti gli amici, sempre Forza Milan, ovunque e comunque, noi ci rivediamo nel post Bologna Milan sull'urlo, però non escludo che in giornata se ci sono dei movimenti particolari io posso attirare ovviamente fuori un altro contenuto, sapendo che tutti gli sketch che io faccio adesso, proprio perché non deve essere un regalo e dare queste perle in bocca i porci saranno solo esclusivamente un regalo per coloro che sono abbonati al canale, quindi gli sketch del buzzurro nerazzurro che è in Ciro il napoletano, tutti questi lo vedranno solo gli abbonati al canale, cosicché non regaliamo al pubblico e al volgo e a coloro che entrano qua solo per guardare certe cose, questa nostra felicità anche di poter fare degli sketch a livello teatrale, visto che io essendo stato anche uno studente in una scuola di teatro importante dove il mio maestro era Walter Leonardi, che immagino molti di voi conoscano come attore, queste cose si fanno pagare, non si regalano così, quindi tutto il resto vedrete che ci sarà molta più, tra virgolette, professionalità, serietà, incisività nei video, il resto gli scherzi li faccio con chi merita e non con coloro che vengono semplicemente qua per fare dei vampiri energetici. Ci siamo capiti? Buona giornata, forza Milan, mi raccomando, oggi alziamo gli animi, buon inizio settimana e noi ci vediamo qui alla prossima. Ciao!